La Pasqua a Comiso, come vuole la tradizione, ha avuto inizio nella serata di sabato, suggestivi sia i momenti in cui la taledda viene raccolta per scoprire le statue del Cristo risorto e dell'Annunziata e sia quelli in cui viene sciogliuta l'oria con il suono delle campane a festa dell'Annunziata a cui rispondono in coro le campane delle altre chiese commisane. Applausi, lacrime di commozione, la banda musicale sul sagrato della chiesa che intona l'inno, scoppio dei mortaretti e il grido di gioia dei fedeli scandiscono l'annuale inizio della festa. La Pasqua a Comiso 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 La Pasqua a Comiso